Live Social Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione. Oggi siamo in compagnia di una figura professionale che abbiamo iniziato a conoscere, ormai abbastanza familiare nel nostro ambito appunto lavorativo o di vita. E lei è la dottoressa Miriam Allegretti e la sua professione è l'osteopata. Benvenuta a Live Social. Ciao, salve a tutti e grazie per l'invito. Allora, per i pochi che ancora non conoscono la professione di osteopata, chi è l'osteopata, cosa fa e cosa cura? Allora, l'osteopata è una professione che, mediante tecniche manuali, agisce nel campo della prevenzione ed è ripristina della salute della persona. Ha un approccio listico, il che significa che guarda alla totalità del corpo umano e non alla singola parte che ne accusa il disturbo. Quindi l'osteopata che fa? Individua la cosiddetta disfunzione somatica, ossia quella zona del corpo che presenza una riduzione del movimento e modificazione dei tessuti e mediante tecniche specifiche ne va a ripristinare il normale funzionamento, simulando quello che è definito principio di autoguarigione del corpo. Non da ultimo, è importante la collaborazione di noi osteopati con i dentisti. Infatti, gli osteopati possono supportare gli interventi in ambito ortodontico, ad esempio nei casi di bruxismo, quindi quando si durinano i denti o durante l'installazione di un apparecchio, stati in cui il trattamento manipolativo è consigliato prima, durante e dopo l'installazione al fine di sostenere l'adattamento del corpo ai cambiamenti che li vengono imposti dall'installazione dell'apparecchio. Non può guarire, ad esempio, anche malattie degenerative croniche, malattie genetiche, infestive o infiammatorie. Può, in alcuni casi, però, essere a supporto della terapia medica ed in modo specifico può intervenire per venire il dolore. Allora, sono tanti i campi di applicazione dell'osteopatia e sicuramente un senso di benessere lo abbiamo immediatamente, perché immediatamente si ha un risultato. Io vorrei dire agli amici di Live Social dove poter trovare la dottoressa Miriam Allegretti e poter beneficiare di queste sue tecniche e anche la pratica legata all'osteopatia. Via Madonna della Grazia 3541 a Terlizzi, siamo in provincia di Bari, in Puglia. Abbiamo due pagine social, per l'appunto, Miriam Allegretti Osteopata, la pagina Facebook, Miriam Allegretti.Osteopata, per quanto riguarda la pagina Instagram. C'è poi un indirizzo email miriam__allegretti.hotmail.it e infine il contatto diretto 348 095 4029. Saluto e ringrazio la dottoressa Allegretti che ci ha fatto capire l'importanza dell'osteopatia e ci ha fatto anche capire e approfondire tutti i campi di applicazione e non sono pochi. Grazie ancora per aver partecipato. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.